A suonato per voi alle chitarre Claudio Romano, al basso Lello Somma, alla batteria Salvatore Abete, alle percussioni Robertino Bastos, DJ Titas, Alessandro Piccolo e il grande direttore musicale, amico mio, l'arranzatore dei brani in cui adesso mi devo presentare qua, mi spiegato presentarti così, nonché veramente un fratello, un secondo padre, Carmine Liberati, sono 5 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti